Oggi la mia unica intenzione è quella di farti stare meglio, dirti certe cose che tutti, prima o poi nella nostra vita, abbiamo bisogno di sentirci dire. E ricorda che io sono qui per te. Ciao. Ciao. Grazie per essere qui, 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 con me oggi. Oggi la mia unica intenzione è quella di farti stare meglio, di... aumentarti un po', di metterti un po' di buon umore, di aumentare la tua serenità, di diminuire un po' le tue insicurezze, di farti stare meglio. E' il mio unico scopo oggi. Andiamo prima di tutto ad accendere un incenso che ci permetterà di concentrarci meglio. Ho trovato in casa, per puro caso, chissà da quanto era lì, questo portaincenso molto particolare, che è una pallina in mezzo. in cui si inserisce perfettamente un bastoncino di incenso. E qual è il miglior momento per usarlo, se non questo? Questo? Sì, sì. Ho i miei soliti fiammiferi. Adoro tra l'altro questi fiammiferi, perché hanno la punta rosa. Adoro tra l'altro questi fiammiferi, perché hanno la punta rosa. Per esempio, ho scaricato. facciamo dare respiri profondi ok? giusto per metterci nel qui ed ora buonissimo andiamo ad appoggiarlo qui dietro sarà dietro di me non so se... no non lo vedi? adesso lo vedi? sarà dietro di noi dietro di me tutto il tempo ok? e ho deciso di fare questo video che sarà molto a cuore aperto molto spontaneo molto proprio di getto ma dal cuore per dirti che per trasmetterti di affetto e dirti certe cose che tutti prima o poi nella nostra vita abbiamo bisogno di sentirci dire però per un motivo o per l'altro magari nessuno se le dice non ci vengono trasmesse non ci vengono dette ed è un peccato perché ci farebbero tanto bene quindi oggi sono qui per questo sarà anche un pennello sarà forse la lezione di yoga che ho appena fatto che mi ha lanciato la mia gratitudine alle stelle o il fatto che ultimamente sto ricevendo dei messaggi incredibili veramente mi si scalda il cuore dei messaggi in cui persone mi ringraziano proprio profondamente per i miei video per ciò che faccio mi riempiono d'affetto e volevo ricambiare in qualche modo comunque donare e trasmetterevi questa gratitudine questo affetto che ricevo e condividerlo con voi e volevo dirvi che di a di che vi apprezzo tanto io apprezzo ogni singola persona che si prende tempo per guardare i miei video ma in generale che si prende tempo per sé per prendersi cura anche un pochino della propria salute mentale del proprio relax quindi se sei qui e ti stai ritagliando un momento per te hai fatto la cosa giusta sono piena di te nella nostra società ormai non è facile rallentare prendersi del tempo del tempo e oggi volevo dirti che tu vali tu hai valore tu sei una persona degna degna e meritevole di tutto l'affetto l'amore di tutto nel mondo ti meriti di ottenere ciò che desideri ti meriti di essere felice ti meriti di divertirti ti meriti di avere delle persone intorno che ti circondano ti apprezzano ti capiscono che sono lì per te quando ne hai bisogno e per cui anche tu sei disposto a essere lì per loro quando ne avranno bisogno ti meriti ti meriti amore incondizionato non importa cosa fai non importa cosa studi non importa che lavoro fai non importa se c'è un'attività in cui eccelli non importa nulla di tutto ciò perché in ogni caso ti meriti di essere amato amata appunto senza condizioni e il tuo valore come persona indipendente da tutto ciò che fai da tutto ciò che sai fare il tuo valore lì intatto che tu abbia un giorno produttivo che tu abbia una giornata no che tu abbia una giornata di riposo che tu stia passando un periodo migliore o peggiore il tuo valore rimane immutato e tu continui a meritarti tutto ciò che desideri così continui a meritarti di amore incondizionato e ti meriti anche di riuscire a provare per gli altri amore incondizionato te lo auguro davvero tanto perché è bellissimo dico queste cose perché molto spesso per prima tentiamo identificarci con ciò che facciamo con ciò che otteniamo con ciò che possediamo con ciò che sappiamo fare e pensiamo che non riuscendo a ottenere una certa cosa non avendo qualcosa il nostro valore sia minore rispetto a qualcun altro però non è assolutamente così è una cosa che a me ha fatto quasi piangere quando me la sono sentita dire e ti sto prendendo veramente un pezzo di cuore qui quindi ti l'assicuro e non te lo sto proprio affidando questo mio pezzo di cuore è stato commovente rendermi conto di questo e a me è dato comunque tanto anche andare in terapia ma so che molte persone ma so di essere molto privilegiata e in parte voglio comunque riuscire ad aiutarti per le mie possibilità e dirti queste cose perchè non mi costa nulla dirti queste cose secondo me fanno tanto 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 bene e ognuno di noi ha bisogno appunto di sentirsele dire se ci pensi è come non so io ho un cane ami io l'amo incondizionatamente l'amo se si riesce a prendere la pallina o no l'amo se quel giorno corre tanto corre poco l'amo anche se quel giorno mi rompe un po' se quel giorno ha più necessità di altre se quel giorno sta male se quel giorno per qualche motivo non mi non vuole essere con me non vuole le mie coccole io l'amo comunque e lei non non ha nessuna capacità lei semplicemente lì esiste ti ama e il suo valore è questo quindi se ci pensiamo è un po' la stessa cosa non cerchiamo di provare il nostro valore in continuazione perché il nostro valore è proprio il fatto di essere e quindi non pensiamo di non meritarci qualche cosa di non meritarci amore di non meritarci rispetto perché non è vero perché te lo meriti ma te lo meritano tutti ti meriti questo momento di relax ti meriti ti meriti tutti i momenti di relax che vuoi di cui senti il bisogno ti meriti ti meriti ti meriti dei momenti anche di raggiorezza ti meriti dei momenti di sfago ti meriti dei momenti di sfago ti meriti dei momenti di gioco ti meriti di soluzione ti meriti di libertà ti meriti di libertà ti meriti tutto qualunque è piccolo ho un grande problema che tu stai affrontando nella vita ti devi appunto ricordare questo che il tuo volo non cambia ok riuscire ad amarsi e accettarsi e a amare anche i propri difetti le proprie esigenze le proprie insicurezze è fondamentale è fondamentale che ci stai affrontare il tuo volo Volevo anche ringraziarvi ancora, perché è meraviglioso vedere e sentire tutto l'affetto che si crea. Anche vedo alcuni commenti in cui magari le persone si sfogano o raccontano qualcosa che è nato nella giornata e altri commenti di persone che rispondono, che consolano, che rassicurano. È incredibilmente prezioso e vi ringrazio davvero tanto. E ringrazio anche davvero tanto chi si prende anche poco poco tempo per darmi un feedback, per dirmi che il mio video è stato ascoltato in un momento particolare, che ho veramente ricevuto dei messaggi incredibili. In generale volevo ringraziarvi perché più affetto ricevo, più amore ricevo e ne ricevo, più riesco a mettere amore in ciò che faccio. Mi viene proprio spontaneo e quindi aumento proprio la qualità del mio lavoro per voi fondamentalmente. perché ci metto più passione, più amore, ancora di più, più intento. Ascolta questa piccola riflessione, ma ogni tanto mi piace proprio ringraziare per bene. Questa incenso è molto forte. Un terzo. Non lo vedete. Adesso ti metti un po' di coccole, quindi un po' di... Guardaci in camera. Un po' di soffio. Mi immagino con questo soffio che io ti stiamo andando, tutta questa gratitudine, queste buone intenzioni. E un po' di... per calmarti se magari qualcosa ti preoccupa. Ok? E ricorda che io sono qui per te. Per te. E puoi riguardare questo video quando vuoi e sarò sempre qui per te. e rinforzare questo video. E qui siupere. E qui. Emplosio. Per te. E qui. Sì. 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 Grazie. 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 buon'nui 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 fête jo jo re gutenacht leken 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 oeste buon'nui 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 piccoli d'alegna crema un bacione buon'nui buon'nui grazie come sempre di tutto che li spero qui Admins buon'nui 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 luon'nui